mmmm Vistero era ora che tu arrivavi Pixi qui Cogliela La prima cosa facciamo un bel brodo di verdura per cocere il lampredotto Vai Adesso scendo a cocere il lampredotto 25 minuti a bollire dentro il brodino Cavolino nero anche se un serbe ce lo può andare perché ci sta bene A 250 gradi finchè diventa un bel erogato Tagliamo le rosette Rosette! Non rosette! 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 Cosa importante se inzuppa al pane Salsa piccante Predotto E il tappo Chees Chees